La lotta al cambiamento climatico e tornare a finanziare l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Joe Biden parte da qui e non solo. Dal fare l'America grande, lo slogan di Donald Trump, all'America da cambiare per togliere gli States dall'isolamento internazionale degli ultimi mesi. Biden vuole dare la sua impronta al nuovo corso dal giorno del suo insediamento come 46esimo presidente degli USA. Una sorta di New Deal di storica memoria riprobosto, con un elenco di decreti esecutivi operativi dal 20 gennaio, in attesa della manovra economica monstre da 2.000 miliardi. Decreti che cancellano la politica di Donald Trump, dal rientro agli accordi di Parigi sul clima, al finanziamento all'OMS, alla mascherina obbligatoria in tutti gli edifici pubblici federali e sui mezzi di trasporto in tutto il paese. Abolirà Biden anche il Muslim Ban, il divieto voluto da Trump sull'ingresso negli USA da alcuni stati musulmani. Altre misure, anticrisi, blocco degli sfratti per inquilini morosi in difficoltà e di quello per il rimborso del prestito d'onore agli studenti universitari. Ma è sugli immigrati che la politica di Biden evidenzia ancora di più la sua chiave in controtendenza rispetto a Trump. I figli minorenni di irregolari fermati alle frontiere si riuniranno alle famiglie e 11 milioni di immigrati entrati da bambini o nati negli state saranno regolarizzati. Misure che dovranno essere approvate dal Parlamento, ad eccezione di quelle che cancellano i decreti esecutivi di Trump, con procedura quasi immediata.